Che ne sarà di questo viaggio, lontano come tu da me? Sarò pazzo, sarà coraggio, ma in fondo sono qui per te. L'impegno di noi uomini, fra cielo, terra e mare, con popoli che crescono o scompaiono per fame. Limiti del cosmo, poi c'è un limite mentale, un uomo sta morendo perché un altro fa l'affare. Egoismo degli antichi, privilegi della gente, promettono un futuro, miserabile e opprimente. Bambini rassegnati, che per non stare male, sopportano i sopprusi, e hanno smesso di sognare. Il mio messaggio di pace, ai signori della guerra, è che tutto è vita, e ognuno ha la sua stella. è la vita, è la vita, è la vita, è la gente, è la decisioni che pog importa l'affare, non ci sono coselichen sono più stessi, magari ho dovuto farlo, non ci sono? Chi sono e le aposto cosa sviluppei, e lo apriquo aishes? Tutti pensiamo di essere dei vincenti Tutti crediamo al giorno quando saremo importanti Passione senza Pulsione o vuoto E l'inquilibrio Oivonia del gioco Un gioco Un gioco Un gioco Il mio messaggio di pace Ai popoli del mondo Un gioco 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 Un gioco